di Casalanquida o di Lentella che ha bisogno della fognatura, dell'appedotto e di qualche altro problema del piano regolatore e di altro, noi ne importa nulla, è anche di vanno, ma io sto facendo un esempio per dire che già basso, forse, fonda della cosa che c'è una maggiore attenzione, c'ha 30.000 abitanti, ma pensate alla milietro dei piccoli comuni, non li pensa più nessuno, ma nessun contatto, questo è il problema principe di cosa, ecco perché la legge elettorale è importante per riportare quell'attenzione tra territori eletti e elettori che è un discorso di democrazia, di rappresentanza e soprattutto è la soluzione a tanti problemi, perché se chi ci governa, ci amministra vive il territorio, la domenica viene fra di noi a stringere la mano, a parlare dei problemi, ad ascoltare, a collochiare, a confrontarsi, incontri, convegni eccetera, qui è stato ricordato Revo Casper, voi sapete io sono vissuto con lui per tanti anni, come tanti altri amici, ma io forse più di tutti per aver avuto la fortuna di essere sindaco di un comune di Mitro, poi a Gis, 15 anni, quando lui era a 15 anni sindaco di Gis, io presidente della comunità Fontana, Luciano lo ricorderà e lui ministro più volte, abbiamo visto una serie di problemi, quando a me mi dicevano, no ma Gasper non si muove fuori, se Gasper non vuole, poi io gli portavo problemi, mi ricordo, un problema del comune di Gis, il mattatoio, fece il mattatoio, allora si chiudeva, le asti chiudevano tutti i mattatoi dei piccoli comuni perché non riuscivamo a gestirli e non ero igienicamente a posto, Gasper aveva fatto il, grazie anche forse al suo potere, senza forse il mattatoio a Gis, però da solo non riusciva a gestirlo, io gli propose di fare un consorzio misto pubblico privato, con, Luciano se lo ricorderà, con la comunità Fontana, facevo con questo e gli risolvevo i problemi, mi ascoltò, tanto per essere, per dire come si risolvivano, si ascoltavano, si risolvevano i problemi, oggi con chi vai a parlare, con chi vai a discutere, ma chi conosce l'Apinino, Aracu o De Angelis e tanti altri personaggi che girano a, io veramente è una cosa, come si fa a non parlare della vita, c'è la crisi dei partiti, bisogna tornare, mi fa piacere, io che l'ha detto, non mi pare il detto, che il professore universitario diceva che, Federico dice, che bisogna tornare all'estensione, all'organizzazione, vedete, dicevamo prima, la legge di Porcellum, che non mi piace per niente, però avrebbe un senso, se funzionassero i partiti, perché se la selezione della classe dirigente avviene attraverso i congressi, attraverso i dibattiti, dentro l'esezione, le comunità dei provinciali, le comunità regionali, il Consiglio nazionale del partito, c'è la selezione naturale, è chiaro che quale sono le elezioni, i leader dei partiti vanno a fare i candidati alle elezioni, ma nel momento in cui non c'è questa selezione a monte, noi ci ritroveremo tante signorine che vanno a fare i ministri, ma questo non è più possibile, ecco perché c'è la crisi della politica, perché c'è la crisi dei partiti a monte. Un'ultima riflessione, poi chiudo perché abbiamo fatto a lunga, sul cattolino, io sono molto più lucioso per il futuro, io sono d'accordo con Enrico Giuseppe Andorio quando dice, perché lo dice tutto il mio partito, questo per la verità lo ha teorizzato proprio tutti gli ore, qualche anno fa, dicendo che bisognava intanto invertire il discorso che invece la CEI, che si chiamava il capo della CEI fino a poco tempo fa, ruini, che i cattolici potessero stare in tutti, c'è la fine del partito unico dei cattolici, oggi invece i cattolici anche della Chiesa, anche quella che è la, i vescovi, i cardinali, eccetera, eccetera, pensano invece a un discorso inverso. Io guardo con molta attenzione al discorso di Tommi, dove l'associazionismo cattolico si unisce, discute e mi è piaciuto un passaggio di Ferdinando Cassini, un incontro di amministratori regionali, lui ha detto che lui è disponibile a sciogliere il DC per fare questo. Per allargare, per tornare, perché c'è il disagio dei cattolici che stanno a sinistra, perché la fusione è fredda, l'abbiamo ascoltato in questo momento, non è riuscita, ma perché anche a destra non è un partito, è un cartello elettorale per vincere le elezioni non per amministrare, c'è bisogno della ricomposizione dei moderati, c'è bisogno del Partito Popolare Europeo probabilmente e dei socialdemocratici per un'evoluzione anche da parte della sinistra che noi dobbiamo favorire tutti quanti nel quadro politico. Non è possibile che ci siano ancora la lega da una parte, ancora i fascisti che dicono che non esistono più, ma il loro linguaggio è quello che sta creando disagio all'interno della Pdl o addirittura quelli che pensano ancora che ci possono essere i comunisti in Italia, che adesso hanno cambiato nome, si chiamano Di Pietro, si chiamano Ventolo, si chiamano in un altro modo, ma insomma non è più possibile, però c'è sicuro, secondo me, di una ricomposizione, di una ricomposizione. Qui finisce il disagio dei politici, c'è bisogno di chi ci aiuta a fare, a rimettere insieme tutti i moderati e tutti i cattolici, ma non solo i cattolici, perché quando parlo dei moderati ci sono anche dei laici, ci sono anche di chi professa altri tipi di religione. Questa è la sfida, nel mondo si considera la democrazia cristiana, c'era uno in partito interclassista che, come dicevano, non è l'accezione destra-sinistra, c'era un partito moderato di centro che guardava a sinistra e significava questo. Siamo d'accordo, adesso passiamo a ricomporre. Grazie a tutti, grazie a tutti. Attualmente, che io conosco, ci sono solo due paesi che non lo praticano, sono il Belgio e l'Olanda, il Belgio sono due anni che non ha un governo, l'Olanda dice che si è rabbata per fare un governo a me. Non si può superare il dubbio, ma il dubbio arrivano così del dipartismo. Non significa che non ci possa essere una pluralità di partiti, significhi. Significa unicamente che i partiti, quando si va alla decisione elettorale, devono formare due schieramenti, che possono formare anche di più, ma poi è ovvio che sarà uno che dovrà prendere. E che quindi, prima delle elezioni, trovino quelli che hanno un'attività politiche, in modo di convergere su un programma comune, di presentare all'elettorato con un programma comune. Questo implica, però, anche il dovere morale, etico. Una volta che ci sono state le elezioni, innanzitutto non ci deve essere la transumanza. La nostra concituzione dice che l'eletto non ha vincolo di mandato. Ma non avere vincolo di mandato non vuol dire non avere vincolo rispetto alla scelta politica che si è fatta. Che nel momento in cui quella scelta politica non viene più condivisa, l'unica termotiva è diventata. Non è quella che basta andare a mandare a mandare a mandare a mandare a mandare a mandare a mandare. E questa dovrebbe essere una regola morale assoluta, perché noi abbiamo visto, non solo nell'ultima situazione elettorale, anche quella precedente del governo Prodi, che proprio le transumanze hanno creato la difficoltà dei governi eletti e quindi la caduta dei governi eletti. parla di questa premessa, siccome il tema è su questo che mi volevo un attimo concentrare, che ci è stato dato riguardo il disatto dei cattolici nell'attuale situazione, ci dobbiamo domandare come i cattolici oggi si pongono rispetto a questi principi e rispetto alla situazione della politica. Sappiamo tutti che per circa 40 anni abbiamo avuto un partito strutturato della benovanzia cristiana, che per quanto mi riguarda, sono stato magistrato da questi cristiani e non ho mai manifestato le mie idee politiche, ma il voto di Nomenna lo sa perché io ho votato quasi sempre per la democrazia cristiana e non me ne vergogno a farlo. La democrazia cristiana ha avuto grandissimi mezzi, prima di aver garantito la democrazia in Italia ai momenti in cui la democrazia in Italia era in pericolo, di aver consentito la introduzione nella nostra Costituzione di principi che fanno riferimento al cattolicesimo e dalla libertà in cui nel cattolicesimo deriva e poi segue. Di aver affermato purtroppo non sembra un successo. La valentà di valori che oggi il nostro attuale contemporaneo ci si trattano di istruzione ed educazione dei giovani, della solidarietà sociale. E quegli sostanziali principi non negoziabili sono principi a cui ovviamente il politico cattolico non può rinunciare se qualcuno non può trascriciare se vuole dichiarare un politico cattolico. E allora la domanda è come è possibile che oggi noi troviamo politici che si dichiarano cattolici che si trovano in tutti gli schieramenti, forse solo gli ereditati, non c'è qualcuno qua, e gli altri schieramenti politici sono, per esempio, la rivoluzione comunista. Quando sappiamo ci sono partiti politici che questi valori non sono stati così utenti negocchi, non solo non li contribuiscono, ma ci sono stati superati. Sappiamo bene che nella storia della demotologia cristiana ci sono stati due momenti in cui questi valori, nonostante la strarella difesa che Castiglione ha fatto, sono stati superati. attività di sostenibilità. Perché? Perché il partito cattolico dell'emergenza cristiana, eccetto per l'episodio specifico e proprio dell'elezione del 48, in cui c'era uno scelto nel muro contro muro, non ha mai avuto in Italia una maggioranza assoluta e quindi per governare è venuto sempre a fare i conti con altri partiti determinati che ormai hanno fatto alleanze a questi problemi con altre forze laiche e hanno così portato a superarmi di questi due valori. Questo lo dico non perché voglio rivendicare la giustezza o la criminalità di quelle scelte, non mi permetto di rimettere politiche. Ma per dire che oggi l'idea di ricostituire il Partito Cattolico 1 secondo me è una idea bella ma un po' utonica, forse non vincente, perché comunque non sarebbe mai in grado da solo questa forza politica di avere una maggioranza nel nostro Parlamento. Allora, certamente una forte presenza e una forte capacità di incidere, ma dovremmo essere per vari conti con altre cose. E certamente però oggi, non ho fatto positivo, la diaspora dei Cattolici in tutti i partiti cittadini. Ci abbiamo anche dell'arma costituzionale, che abbiamo trovato con gli attività, che vanno tra i padetti e naturalmente fino all'estrema sinistra. c'è un passito, quello dell'Udc, che si richiama, siamo formalmente con gli attività e che se reclamano il diritto ereditario della depunta democrazia che richiama da un partito che oggi ha una consistenza contenuta, che ha l'aspirazione di espandersi, di diventare più grande, ma secondo me dovrebbe avere l'aspirazione di aggregare un'altra forza politica che si richiamano ai principi cattolici. Perché solo così è in grado, come è stato in grado, in moltissime occasioni di incidere nella politica italiana. Oggi questa separazione, questa separatenza del Cattolico dell'ambito politico pensa. Pensa è rischiosa. È rischiosa perché, al di là dei grossi problemi economici che oggi abbiamo, che comportano altri problemi, questa separatenza può comportare il successo di altri superamenti che i valori non negoziati. Stiamo a te. Se vogliamo veramente essere difensori, tutori dei valori non negoziati, dobbiamo essere uniti nella difesa, non possiamo essere separati. e questo è il messaggio che vi lascio e secondo me su questo i cattolici che vogliono fare politica sono chiamati riflettere e adoperare. Prima di fare una sintesi velocissima, se c'è qualche altro intervento... Alcune brevi considerazioni che non riguardano solo gli emo cristiani, ma gli ex-comunisti, la questione è questa a mio avviso. Esistono partiti che hanno una tradizione fortemente generalizzata rispetto ad una società che non è appunto generalizzata. E questo è uno scontro fondamentale laddove esiste una tradizione verticale. E per questo era forte la democrazia cristiana, per questo era forte il partito comunista ed erano deboli i partiti laici, debolissimi partiti laici. Perchè? Perchè? Perchè di fronte agli antichi organismi, ecco, ai tempi di Spadano, come ricordava Peppino, che cosa succedeva? C'era il cartello, permetteteli, permetteteli, insomma la battuta, schiavi di Spadano, che andava sotto la sede dell'ABC, ma era qualcosa di una società, era una comunità, dove praticamente che cosa accadeva? Che chi stava sopra veramente controllava chi stava sotto. E questa società aveva dei partiti che rispondevano a questa esigenza, ma di fronte ad una società dove il divorzio è all'ordine del giorno, no? È chiaro che è difficile mantenere un rapporto. È una società troppo liquida per presentare dei partiti fortemente generalizzati che decidono a Roma e che poi mandano dei soggetti sconosciuti a tutti. Ecco, il Partito Democratico con cosa ha fatto? Il Partito Democratico ha cercato in qualche modo di risolvere il problema con le primarie. Ma che cosa alle primarie? Ancora qualcosa di importante, la formazione di un partito che sappia rispondere alla società o alla società. Questo è il problema. E come si risolve questo percorso? Il problema è tutto lì. è tutto lì. I sistemi elettorali sono figli di questa difficoltà, sono assolutamente figli di questa incapacità di saper generalizzare e di saper operare sulla orizzontalità. È il problema. È solo qui. Perché chi è stato orizzontale Lucio Magri è dovuto andare in Svizzera? Allora il problema di fondo è questo. Sono in grado i partiti oggi di avere questo a primo problema. Qualcuno, non mi ricordo che, molto fortunatamente, parlava di motivazione. Dove sono? I cattolici dove sono? I bianchi dove sono? Ecco il punto fondamentale. È proprio questo. Manca la motivazione. E che cosa facciamo? È mai possibile che un partito di 7-800 persone riesce a bloccare una amministrazione? È possibile questo? Ecco, allora, è qua che bisogna riflettere. Come si riesce ad avere, come un partito gerarchizzato riesce a fare un conto con questa diversità? Allora, ecco, io non lo so come... perché se avessi una ricetta saremmo venire, ma una cosa è certa. D'Alfonso, prima di essere un politico, penso che fosse una persona in grado di stare tra ragione. Ciò che manca è questo. Ciò che manca è questo. sono persone. Sono persone che non sono in grado di stare tra ragione. E o pensano all'amministrazione, o pensano a fare politico. Ma un soggetto capace di rispondere a entrambi i motivi. Ma vogliamo forse pensare che la cosa importante è essere stare tra ragione? Cioè, non è andare tra ragione e stringere le mani. Questa è una cosa che stanno a fare su tutti. Mai saper interpretare realmente quelle esigenze. io non lo so. È mai possibile che di fronte a quello che mi pongo io al problema della centrale a biomasse, per fare un esempio banale, non ci sia, con la moltiplicazione dei comitati eccetera eccetera, che non ci sia stato qualcuno in grado di fare capire che cos'è la centrale a biomasse. Io, questi sono i problemi che abbiamo. Perché poco o una falsana risolto questi problemi. io credo che non ci sia né di destra né di destra. Perché la cosa importante è affrontare un problema della legge. Il compagno del Xiaoping diceva una cosa che l'importante non è che il gatto, cioè che il don sia bianco o vero, che il don sia bianco o vero. Allora, i problemi del mondo è questo. E che il gatto fa fermo. Ora, su questo, vogliamoci seriamente riflettere. E' tutto lì. Dopodiché io penso che la risoluzione del problema sia una cosa fondamentale. Io andrò in pensione al 74, 75, 76, non so quanti anni. Però io, a me, senza se e senza ma, ci mando con i piedi. Ma non ben altro, ma forse perché faccio il professore, non lo so. Ma la cosa importante è questa. Come risolviamo la crisi? Come la risoluzione? Troviamo, ecco, è lì che occorre cominciare ad avere il senso di responsabilità. e chiudere, facendo riferimento all'ultimo disco di Cedricano. Bello scopo è solo un sito. I responsabili siamo noi. Sono due riflessioni prima di tutto. Intanto volevo ringraziare il primo conto. perché il dialogo, questa sera, era impostato su due corni del problema. La crisi della politica e il risale dell'attore. Cioè, effettivamente, negli interventi che si erano succeduti, c'era stata una qualche caluna sul versante del secondo aspetto, e questo lo abbia colmato molto bene. In base alle sensibilità diverse, sono state espresse anche alcune diversità. C'è stata una convergenza totale, credo, sul versante della legge elettorale, che va in modo nell'altra assolutamente modificata. Perché, vorrei dire, qualcuno ha fatto qualche nome, si è parlato di De Angelis. Io ricordo, per esempio, Lidia Turco. Ecco, Lidia Turco, ma ripeto, la Lidia Turco del caso, non proprio lei, personalmente, che significa che parla protagonista di ogni partito, non ce la possiamo più permettere, credo, che su questo ci sia stata una convergenza totale. Per quanto riguarda invece le perplessità sul bipolarismo, volevo fermarmi un attimo sulla riflessione del sindaco e sulla riflessione dell'Università della Porta. non mi sembra che sia stato detto che ci sia una qualche intenzione di tornare ai 18 governi in un anno. Niente di tutto questo. Si parla di una semplificazione del quadro politico. ci sono le possibilità, penso alla scrittura costruttiva, penso ad una legge elettorale con un parlamento al 100%, non mi sembra che in Germania stiano fatto male, ci vuole certezza di governo, questo sì, e ci sono dei metodi efficaci per ottenere questa certezza di governo, e, forse, per quanto riguarda la serata, abbiamo trasturato un particolare. Va bene la politica, va bene la rischia della politica, va bene l'Issalio dei Cattolici, va bene tutto, ma non dimentichiamo poi che questa politica viene fatta sempre da uomini e donne in carne e ossa, e viene fatta da leader politici che evidentemente da un po' di anni a questa parte, qualcuno, prima Luciano si riferiva a onorevoli che vengono, che sono molto conosciuti ma non vengono riconosciuti, però ovviamente in questo paese da diversi anni c'è stato qualche leader che pensava di essere riconosciuto in realtà è stato soltanto, e era soltanto molto conosciuto. La settimana scorsa, caro Luciano, sono stato invitato da un uomo a presentare con grande piacere un libro del 1942 che però ha dedicato a pubblicare un recente con la curatela di Marco Filoni ed è la nuzione di autorità di Alexandre Crocello. Per questo grande autore c'erano quattro forme di autorità. Tralascio le altre tre che non mi sembrano pertinenti al caso perché una era la giustizia, un'altra era la logica del padrone e del serbo, un'altra ancora era quella del padre. Io stasera, non a caccia, perché la verità sul padre ho fatto un riferimento a Regasperi perché, così come questo attualissimo libro di Massimo Recalcati dal titolo Che cosa resta del padre ci dimostra che un padre, per essere tale, lui fa dei riferimenti al film Gran Torino di Clint Eastwood, al libro La strada di Cormac McCormick, fa il riferimento a padri che sono stati in grado di trasmettere un esempio, ripeto, di non lasciare punti correnti. In una storia particolare di un libro meraviglioso c'è un padre che ha lasciato la tazza per metterci il pennello della pappa e per il figlio quella tazza da dove prendere il coltello in mattina il pennello e guardare allo specchio ricorda questo personaggio che ogni qual volta faceva questo gesto al mattino ritrovata il volto del padre, questo per dire come è possibile legare le generazioni anche attraverso una tazza, ma di quelle forme di autorità quella che così avvice alla serata è quella del capo, ma non il capo inteso come dittatore, il capo, lasciatevi passare, il pennello inteso come direttore d'orchestra. Il direttore d'orchestra conosce lo spattito prima in meglio degli orchestrali e sa soprattutto dove dirigere, dove portare gli orchestrali, dove condurre la sinfonia e dotando, scrive Roger, di una sorta di prescienza cioè conosce gli atti non del presente ma del futuro. C'era un altro prelato a quella che partecipato a quella serata mi ha detto, caro Giovanni, in questo momento non solo a Roma ma in ogni singolo paese di questa bellissima Italia manca il sogno mio, ma non il sogno vero storiano. Veniamo a noi, manca il ponte del mare, manca qualcosa che si possa toccare con mano quella è la realizzazione, quella è la sinfonia, però quella sinfonia senza il direttore d'orchestra evidentemente non può essere eseguita. Per molto tempo in questo paese la parola leadership e ancora di più la parola leader ha sempre fatto spaventare, ma sono termini che devono essere coniuganti con la politica, con la sana politica, perché ormai la democrazia pensa che sia piuttosto salda in questo paese e allora non dobbiamo avere paura di chi riesce ad assumere responsabilmente con determinazione le decisioni. Grazie. Grazie. Grazie.